Ciao a tutti, sono Federico Melis, vi aspetto alla palestra New Gin Tonic di Rivarola. Senti, avete finito in crescendo, in effetti non eravate partiti benissimo, poi però vi siete assestati bene durante la fase del girone d'andata. Mi ripeto, è un gruppo abbastanza nuovo, soprattutto per quanto riguarda i fuori quote, i giovani che sono parecchi e quindi diciamo che era abbastanza logico che ci poteva volere un attimino di assestamento, un attimino di confidenza con l'ambiente. Poi il nostro campionato è quello, vediamo, speriamo di ripartire da lì. E Fisio, il giorno di ritorno si dice sempre che è diverso, per tante le squadre possono essere cambiate. Che cosa ti aspetti tu della tua squadra, al di là degli avversari? Spero di ritrovarli con l'entusiasmo e la voglia che hanno avuto nella parte finale dell'andata. Se dovesse essere così cercheremo di fare più in fretta possibile i punti che ci servono per metterci al sicuro, per conquistare la salvezza nella parte iniziale dell'andata senza dover arrivare alla fine e avere difficoltà. Perché poi si sa che l'ultima parte di stagione la logica va un po' a farsi benedire, perché c'è chi deve vincere e in mente ha un modo di giocare. C'è chi deve salvarsi e ne ha un altro. C'è quello che a metà classifica, che non ha niente da chiedere al campionato e ragiona totalmente in un altro modo. Quindi il campionato, come al solito, lo fai tu. E Fisio, fin dalla prima partita di domenica prossima sarà, sportivamente parlando, una battaglia? Senz'altro. Con San Vincent e Chatillon all'andata le abbiamo sofferti parecchio. Sono una squadra molto aggressiva, giovane. Adesso c'è il vantaggio di conoscere come giocano, quindi qualche contramisura si può anche prendere. Però, lo ripeto, per noi inizia un altro campionato. Noi oggi siamo a zero punti, dobbiamo conquistarci quelli che abbiamo fatto all'andata. Allora lì sì che si potrà parlare di salvezza.